bene amici di telefono.net stiamo girando questo video col nuovo smartphone economico di ZTE e momodesign l'MD smart proviamo a fare un pan veloce la fotocamera che sta girando questo video è da 2 megapixel proviamo il controsole ci spostiamo velocemente di nuovo pan e ora mi fermo non è possibile fare zoom una volta entrati scusate è possibile fare zoom fino a otto per una volta entrati nella fotocamera mentre non è possibile mettere a fuoco perché la camera è a fuoco fisso